salve a tutti in un nuovo video in questo video vi porta fortemente a cominciare il video e vi ti sfruttavamo lasciato un like se ragazzi partiamo con il video e ragazzi è una cosa ragazzi fantastica è che ragazzi se vedete lì in alto e che si è avviato il timer della fini stagione quindi c'è ragazzata sarete noi andiamo e ci buttiamo subitissimo sul sul potere pannocchia perché ragazzi e nel potere pannocchia c'è c'è questo timer con dirà se c'è ragazzi questo timer quando arriverà a 0 succederà qualcosa in potere pannocchia quindi c'è ragazzino non lo so cosa succederà in potere pannocchia e ragazzi sapete che c'è solo un po anche agitato sono anche un po agitato per questa cosa aiuto aiuto se voi sentite la mia voce in uno in un modo diverso solo che mi sono alzato mi sono appena alzato dalla mattina c'è qualche minuto prima mi sono alzato quindi la voce la mia voce sentirete in un altro modo quindi scusate comunque dove sia il potere pannocchia quello che vi ha detto andiamo qui subitissima bene in realtà si adesso possiamo anche scendere scendo 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 vediamo dove si è fatto vedere si è fatto vedere il timer si è fatto vedere assolutamente ragazzi che scendiamo in un punto alzano scendere gli avanti ehm eccoli andiamo subitissima dai ragazzi che andiamo ad andare ragazzi per la sicurezza vediamo vediamo uno scudo bene passate ragazzi vi faccio vedere solo che ecco oh ma fammi entrare prima che qualcuno viene 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 cosa ho trovato cosa ho trovato cosa ho trovato comunque ragazzi adesso vi faccio vedere tutto in tranquillità dove è andato il timer c'era qua avete sono sicuro perchè ragazzi prima che io cominciassi a registrare sedace bene non so chi è ah sono lì bene si spara bene tutti qua contro di me sono venuto a far vedere il timer non fare le vostre stupide cose prendete questa in realtà in realtà non l'ha presa comunque ahhh maledizione vabbè dovete avere una tranquillità eh non sempre non mi avete vista ahhh guardate bene vi faccio vedere subito il timer guardate lì sopra 8 giorni 11 ora 13 minuti maledizione ehm ehm eh 24 secondi quindi io me ne scappo quindi ragazzi vi ho fatto vedere ok quindi voi sapete dove è il timer venissimo c'è un lucchetto uh c'è anche un rampino lì qualcuno sta avvenendo ahhh ahhh guarda prima che tu prendi il rampino lo prendo io ciao ciao aiuto uh un altro una ceste benissimo anche questo quello la non l'ha presa per fortuna ragazzi quando mi sparavano i loro colpi non mi hanno presa una cosa positiva vi lascio che grazie queste cose non mi serve intanto ecco guarda allora adesso guardate bene aiuto 8 giorni 11 ora 12 minuti e 20 secondi se anche ti sono curioso non lo so cosa succederà chi sta avvenendo ahhh 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 scappa ahhh 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 rampino che ormai ormai era tutto lì ahhh come dice avete visto dov'è il pannocchia e scusate non potere pannocchia intendo che avete visto dove avviate il timer aiuta ok bene sospettiamo e poi vedo c'è ragazzi adesso c'è vi ho fatto vedere c'è ragazzi io volevo che che io vi faccio vedere il timer poi facciamo una vittoria reale tranquillamente no un camion mi viene addosso approvvisamente maledizione a lui c'è aiuto intanto io meritate questa 85 85 adesso andiamo adesso si c'è come vi ho fatto vedere il timer questo quello andiamo in un posto sicuro di solito ragazzi io vado qui qualche c'è ragazzi questi giorni c'è questi giorni io quando gioco fortnite al conto mio io di solito vado in questa posta quindi andiamo anche noi se io adesso andrei con voi intendeva dire quello se ragazzi avete notato anche un'altra cosa che aiuta lo cancelliamo ci avete visto bene si è cancellato benissimo ci avete visto anche un'altra cosa che ho cambiato il tema delle armi forse avete notato forse no bene ho trovato una cosa che mi sarà utilissimo questo ragazzi per laserare tutti dammi uno scudo mai dare uno scudo aiuto in realtà se non è non mi ha buggato nulla non lo sarà oggi c'è un miracolo il mio wifi funziona bene bene c'è anche un cesto ragazzi me la sento non lo so dov'è non lo so dov'è ah capito forse ah non ho nessun materiali va bene lo prendiamo wow cosa ho trovato comunque come sono venuto qui si doveva esserci un cesto qui ma non c'è comunque va bene io farai aiuta ci stanno stanno sparando non so chi ma sparano aiuta aiuta non trovo non trovo non e da queste parti ragazzi me la sento me la sento che da queste parti io sento il rumore del cesto comunque come non la trovo ragazzi non perdiamo il tempo comunque siamo se ne ragazzi siete adesso vado a cercare il cesto questo quella voi vi annoiate quindi non vi faccia annoiare non bene prende anche questo penso prendo una macchina l'aggiungo oh no era per solo per era era solo per prendere la legna bene bene ah se sapete che c'è adesso io penso di voglia trovare un le armi c'è quei quei armi c'è ragazzi l'armi che le armi nuove in modo serviti serviti che in modo facile le armi nuove li voglio trovare intanto ce ne andiamo via da questo posto bene 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 grazie mi meriti uno così comunque ragazzi ringrazio questa ufo che mi ha salvo il contatto guarda 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 salvato salvato miracolo miracolo me ne vado via guarda quanti spari me ne vado non c'è questa partita ragazzi lo voglio vincere c'è chissà 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 ragazzi c'è io in questo video volevo farvi solo vedere il timer e altro c'è solo il timer prendiamo la macchina benissimo c'è una cosa che guarda chi mi potrebbe aiutare e rompiamola e e finalmente mi sento benissimo bene adesso ragazzi qualsiasi persona vuole combattere o altro con me può fare inoltre di solito quando entro sulla macchina mi fa vedere dove sono i il 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 carburante il gas cioè dove dove posso mettere il carburante di solito mi fa vedere tua madre e e la persona fate vita comunque vabbè dai cambia 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 la posizione E direi di ragazzi ce ne andiamo Via Ce ne andiamo via Da questa posta In prima possibile Ok No 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 Ah si davanti ragazzi c'è un camion Quindi lo possiamo prendere Lo prendiamo e scappiamo Da questo posto Guardate lì Si stanno fightando Bene Ok adesso prendiamo Questa Questa camion e scappiamo Questa 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 Ho dimenticato Non è che ho dimenticato È solo che mi sono fermato Per vedere che arma è E quando E ho trovato anche un cesto Se queste cose Non mi disturbano Bene Bene Dai ragazzi Nella vita Qualcosa di positivo C'è Andiamo anche qui Forse ci sarà Forse la rampina Questa Quella Bene 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 Cucchi 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 Nanananananana Andiamoce Nepia Ok Ragazzi No in altra razza Io non mi fermo Vedi così Io non mi fermo Siamo Adesso C'è Questa Fala Entra Mezzo Questa Questa Entra In mezzo Questa Questa Intra Mezzo In mezzo Questa Questa In mezzo Lo faccio il sistema, lo sistemo con questo Oh, sai una cosa? Ti prendo la macchina Eh, fai tatti Bene, scappiamo Non c'è il carburante Si accontentiamo Intanto ragazzi, velocemente Dimmi che Nessuno mi vede Nessuno è venuto Dimmi che Si dai Una cosa grazie, positiva che ho trovato Il coso, il medikit Nessuno, voglio che nessuno Mi viene A killare Si, un'altra cosa positiva Gli scudi Gli scudi Ragazzi Bene E poi ragazzi Guardate un anno In realtà No Cosa fare Le scambio con questo Perché ragazzi La gomma Della macchina Mi serve Vediamo se posso Fare un po' di carburante A questo Se riusciamo Se riusciamo Intanto va bene Loro si fightano Cercato di killarmi Non è riuscita Adesso riusciranno Perché Tua Madre Di sistema Bene Vabbè Sono morto Comunque ragazzi Se vi è piaciuto il video Allora lasciate un like Nessera canale Quindi vi saluto Ci vediamo al prossimo video E ciao